Sì, assolutamente. Era un pareggio contro una squadra buona, già la sapevamo, una squadra che sapevamo che sa difendersi molto bene e noi abbiamo cercato un pochino di fare qualcosina in più per poter vincere la partita, per stare attaccato alla Stilese, però oggi avevamo un po' troppe defezioni, ci mancavano Gio, ci mancavano Bottiglieri, ci mancavano Roccartuso, eravamo un pochino così, però quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo, non mi posso lamentare. È un punto che comunque ci fa bene, ci fa andare avanti, ci fa continuare il trend positivo. Certo, la tua idea di oggi sarebbe stata una vittoria, ovviamente per avvicinarsi o comunque per continuare nella scia positiva, però anche un punto qua a Melecucco non è da buttare. Sì, sì, assolutamente, lo sapevamo che il Melecucco è una buonissima squadra, come ho già detto. Il mio unico rammarico sinceramente è vedere alcune cose in campo che non mi piacciono da parte degli albitri. Io non parlo mai degli albitri, non parlo dei rigori a favore o contro dei fuori gioco, ma inventarsi anche oggi un'espulsione che non esiste, additando addirittura il mio calciatore di aver spuntato un avversario che è una cosa a dire poco offensiva, vergognosa, e non è successo assolutamente niente anche perché abbiamo avuto la conferma dall'altra parte che non si è successo niente. L'albero si è inventato questa cosa giusto per metterci un pochino in difficoltà e giusto per non farci vincere oppure cercare di vincere, perché è capace che anche 11 contro 11 l'avremmo persa la partita, però c'è sempre il però, è una cosa che non mi sta bene. Se le partite io le voglio perdere perché la squadra avversaria ha giocato meglio, ha prodotto di più, allora sì, ma che un arbitro mi impedisce anche oggi, come tante altre volte, di giocarmi la partita, no, non mi sta bene. È la prima volta che lo dico perché forse oggi non vado a commentare un rigore non dato, un fuorigioco, ma un gesto che non esiste. Dopo che il mio calciatore oltretutto ha subito un calcio, quindi un fallo fischiato a noi, l'albero si è inventato questo gesto che non è mai stato, anche perché ci è stato confermato dall'altra parte. Purtroppo a volte una svista può capitare da parte degli albitri, comunque la tua squadra... Scusa se si corrego, ma la svista può capitare sul rigore, fuorigioco, ma non su un'invenzione dove lui era anche a un metro, quindi non può inventare niente. Lui l'ha visto, ha visto che non è successo niente e ha voluto inventare l'espulsione. Quello non mi sta bene. Ritorni comunque a casa con un punto, la prossima ce l'hai in casa. No, no, giochiamo a Branca Leone. Ah, Branca Leone, scusami. Ma noi sappiamo che il nostro campionato non è... cioè noi non dobbiamo arrivare, noi cerchiamo di arrivare alla Stiresi e di raggiungerla in qualche modo, però anche oggi la Stiresi ha vinto, anche oggi ha allungato, però il nostro obiettivo è almeno consolidare una buonissima posizione pre-off ed è quello che è il principale obiettivo. Poi se riusciamo a fare il miracolo ci goderemo il miracolo. Grazie.